Nel tuo coro, fammelo sapere, perché a me nasce sempre il sospetto che nei cori ci sia sempre uno che apre bocca ma che non emette suoni, tanto chi se ne accorge? Ma quei cori enormi, no? Di 50-60 persone. Può darsi pure che ci sia qualcuno che fa... Ma che bello ragazzo, invece vedi qui, sono tutti belli e tutti bravi. Beh, allora, sentiamoli in questo replay. Lo posso dire? Replay, ok. Grazie a tutti.